La Copp è arrivata in Calabria. Dopo una trattativa di circa un anno, grazie all'accordo tra Copp e Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumo italiana e lo storico gruppo AZ, la catena della grande distribuzione più consolidata nel tessuto economico calabrese guidata dalla famiglia Noto, nei 34 punti AZ si accenderanno nelle prossime settimane le insegne di Intercop e Copp, emblema del Made in Italy. Due storie nell'ambito della grande distribuzione che hanno fatto la differenza, quella della Copp che nasce nel 1954 a Torino e che oggi rappresenta una realtà di riferimento su tutto il territorio nazionale e quella del gruppo AZ nato a Catanzaro nel 1979 dall'intuizione di Leonetto Noto che ha dato vita al primo supermercato nella città capoluogo e che oggi è presente in tutta la Calabria. La Copp, infatti, come diceva il Presidente, non affaceva francese fino a questo momento, voleva entrare per forza in Calabria, non voleva fare sviluppo diretto e è passato dalla porta principale, come dicevo, la Z. La nostra storia si basa principalmente sugli stessi valori e siamo arrivati ormai quasi a 40 anni di attività basandoci da sempre sugli stessi valori che ha contraddistinto la Copp. È chiaro che oggi ci sentiamo più forti perché sappiamo di poter contare su un gruppo che, come ha visto dalle slide, è la prima azienda del settore come quota di mercato e si distacca notevolmente anche dai competitor italiani. Grazie all'accordo a Z Copp Alleanza, che prevede anche l'apertura in esclusiva nelle province di Salerno, Potenza e Messina, si apre una nuova opportunità di sviluppo per tutta la Calabria. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto è emersa, infatti, l'importanza di questa operazione orientata anche allo sviluppo attraverso un'attenta valorizzazione dei prodotti del territorio, in piena linea con la filosofia Copp, ispirata al principio della democrazia del gusto ed orientata alla valorizzazione della cultura del territorio. Dagli interventi dei rappresentanti Copp è stato infatti a più riprese ribadito uno degli obiettivi della produzione Copp, che con uno sguardo attento alla tutela del consumatore, alla sicurezza alimentare e dall'ambiente, racconta il territorio. I migliori prodotti della filiera produttiva calabrese saranno selezionati e potranno entrare nella famiglia Copp ed essere distribuiti a livello nazionale ed internazionale. Noi abbiamo già molte attività di sourcing, di acquisto di prodotti agroalimentari in Calabria, perché la Calabria è un paese importante, una regione importante di produzione per Copp. Questa alleanza potrà rafforzare ulteriormente, ci darà l'occasione di conoscere ulteriormente i fornitori, di prendere anche eccellenti ma piccoli artigiani che fanno cose carine, farli crescere, casomai proporni anche nei nostri supermercati e i permercati del centro e del nord del paese. Quindi è un'occasione di potenziamento e contiamo con la gradualità, l'attenzione del caso, di sfruttarla fino in fondo. Grazie a tutti i nostri supermercati.